Un gol l'ho cercato tanto, io ti dico la verità, l'ultimo mese mi sono allenato tanto per cercare di avere una condizione discreta, almeno avere la possibilità di giocare, poi giocando uno acquisisce la miglior condizione per quello, spero di migliorare ancora e cercare di dare ancora il mio contributo a questa squadra che penso che può dare tanto ancora. Sono contento, i tifosi mi hanno sempre incitato, sempre con il massimo rispetto per quello, aspettavano anche loro il mio gol perché ci tenevano a che io faccia bene, perché loro erano contenti che io sia arrivato a Bari per quello, sono contento anch'io di aver dato un po' di soddisfazione e sono durato fino all'85esimo, poi ho dovuto uscire e facevo un po' di crampi. Il Livorno ha perso anche oggi, la soglia salvezza si abbassa ancora di più? Non lo so, poi questo si vede, le ultime 5-6 partite sono determinanti, l'importante è che noi cerchiamo di fare punti nostri e poi quello che succede dietro non importa, l'importante è che noi cerchiamo di vincere tutte le partite che affrontiamo e poi vediamo a quanto arriviamo. Con la Lazio non sarà facile domenica? Non sarà facile però mi hanno detto che hanno avuto parecchie espulsioni, loro stanno in un momento difficile con una sconfitta adesso alle spalle, speriamo di approfittare, se lo affrontiamo con determinazione possiamo fare anche bene lì.